Da calciatore professionista a studente è la favola controcorrente del capitano della Reggiana. Dopo aver conquistato una storica promozione in Serie B, si laurea e lascia il campo per un master in Economia. Elena Fusai. Sono pronto ad affrontare una nuova esperienza e una nuova avventura. Alessandro Spanò solleva in area la Coppa che riporta la Reggiana alla sua squadra in Serie B dopo 21 anni. E' l'ultimo trofeo su un campo da calcio per il giovane capitano. Alessandro, 24 ore dopo questo trionfo, si laurea in Economia aziendale, lascia la maglia e punta a segnare altri gol. La notizia la dà lui stesso con una lunga lettera che legge alla stampa. Una borsa di studio e la missione in una business school internazionale. Comincia un nuovo capitolo di questo gioco infinito che è la vita. Alessandro va controcorrente sui social, il video della sua carriera, i sacrifici e la tenacia fin da bambino per raggiungere il sogno di molti. Quando finalmente entra nel mondo dorato del calcio professionistico, lo abbandona per dedicarsi allo studio. Al di là dei successi sul campo, mi ha permesso comunque di crescere come persona. Mi porto dietro sempre i valori che sono propri dello sport. I tifosi urlano il suo nome mentre festeggiano la vittoria di campionato mercoledì scorso. Sono momenti che Alessandro non dimenticherà. Sicuramente mi mancherà il calcio. Sono pronto, sono entusiasta di questa nuova esperienza. Sento che per Alessandro Spanau, uomo, che è cresciuto durante questa avventura nel calcio, è la strada giusta. Ma l'amore per lo studio non ha età. Da Palermo la storia di Giuseppe ha 96 anni. Sì, è la strada giusta.